Ehi, buonasera ragazzi, aspettate che abilito tutto, tutto a posto, da soli questa sera siamo in multiplayer, e salutate, caprone, devi salutare loro, non me, e chi è che sta guardando la live, Stefano, no io non ce l'ho al volume, allora ragazzoli direi di mettere subito, eccolo qua, farming simulator, offend, ciao Agri Luca, ciao Lele06, ciao Alessio, ciao, basta, non c'è nessuno, ciao John Deer Stefano, ciao, ciao, Stefano, aspetta che saluto eh, Stefano, ok come fa a saluto, eh, cosa facciamo stasera? Eh stasera legniamo, legniamo Lele, eh legniamo Lele, eh dai tutti su Lele, vedi qua, scappa, 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 ciao Alessio, e ciao a Geppes, ragazzoli spero che la connessione, che cretino che sei Stefano, spero che la connessione tenga botta perché è già in rosso, ma vabbè, vediamo bene, io sto laggando già a bestia, ma non importa, andiamo allo shop, non è vero che non stai laggando? Eh sì, sto laggando, no, io, 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 in, coso, fa più casino, basta, io sono in malattia, Lele, basta, ma non si spegne, ma non si spegne, durata della live durerà fino più o meno alle 10, 10 e mezza, è il tempo di sbattere fuori Stefano, l'unico autorizzato a chiamarmi Stefano, sono Red, e basta, il signor Manu e il signor Lele, gli altri non voglio sentire che mi rompe le scatole, no, io ti chiamo Stefano, mi rompe le scatole, no, io ti chiamo Stefano, mi rompe le scatole, e dovevi però, ti autorizzo, gli altri non mi voglio sentire che mi chiamano Stefano, eh Agri Luca ti chiama Stefano, eh, adesso l'ho scritto per quello, ho scritto per quello, ce l'ho detto, vabbè, eh, pensiamo di iniziare o che? Eh non so, non lo 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 so, dai, dai che iniziamo, Allora, stasera ragazzoni facciamo l'Igna, allora direi di comprare già un'usquarta, ok, eh, ti taglio le gambe, prendiamo anche una steel, dai prendiamo anche la steel, no, oggi devo fare il bravo, allora, il carrellone per i mezzi, eh, vabbè che potremmo anche prenderlo proprio per caricare la ponze, quindi andiamo a prendere anche la ponze che voleva, eh, voglio la cingolata, Lele? Ovvio che sì, quindi cingolata, il baffalo, eh, sai che si può scegliere tra cingolata e gommata? Ma voilà, certo? Ah, non lo sapevo, ma mi piace cingolata, va bene questa, ok, cingolata, eh, Stiefe non vuole il baffalo, giusto? Sì, cingolato, no, Marchetto! Marchetto! Eh, hanno bloccato Marchetto, cosa hai fatto? Eh, ha messo, ha messo troppe faccine, Marchetto, eh, il Nightbot ti blocca se mette troppe faccine. Allora, eh, eccolo qua, ciao Marchetto! E c'è anche Roby, ciao Roby! Buonasera, Marchetto! Stefano, cingolato, normale? Cingolato! Cingolato! Compra, sì! Ok, facciamo anche una bella cippata, anche? Va bene, cippo io! Eh, prendo quella grossa! Ah, sì! Ciao, Manu! Uno, l'altra, tanto! Prendiamo quella grossa! E prendiamo anche... Madò? Beh, mai prendiamo anche questo! Madò, facciamo di quei carrettoni di legna stasera! Cavola, quel robo! Ma chi ho è? Eh, hai visto, Marchetto che abbiamo fatto successo sul video. Dica, Jeffeno. Che con il JCB, il coso, il bobcat lì, della JCB. Eh? E il robo che tagli la legna, fai più alberi che con la pons. Li taglia a moneta, proprio. Sì? Sì. Con quello senza la barriera lì davanti. Allora, aspetta, trattore per... Prendiamo il Fenda... Manu. Beh, io preso la pons perché comunque i pezzi della Cipatrizia li sbatti dentro velocemente poi, perché... Sì, sì. Era solo per dire. Basta, chiamarmi Stefano. Ma chi è che ti chiama Stefano? Agri-Luca. Agri-Luca non hai permesso perché... no. Chiamalo Stefano. Eh, cos'è che manca ancora? Eh? Tu, dipende da cosa... Allora, beh, intanto voglio... Prende il cippato se lo scarichi in terra o no? Facciamo il jogging per la legna e il... facciamo crampe per il cippato. E la legna la metti nel carro? Ascoltate, ma siccome che la pons fa i 20 chilometri orari, mi dite dove bisogna andare che intanto mi avvio. No, ti prendo il camion. Oh, figata, il camion. È buono il camion. No, no, spacco niente. Non si spacco niente. Eh, aspetta che ti prendo... Intanto la connessione ragazzuoli è scesa, ecco, è risalita subito, perfetto. Attenzione, le bighe connessioni. Eh, ma c'è... Infatti stasera ragazzi se laggo è perché voglio provare nel server se riesco a farla live. Quindi cadomai ragazzuoli, fatemi sapere se lagga parecchio o se è passabile. Eh, volete anche la... JCB? Eh? Cos'è la JCB? È la palla compatta. Eh, dai, 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 dai. Con il suo robetto per tagliare i tronchi. Il primo, però, solo per tagliare i tronchi. Eh, sì, spede che devo allungare i rimorditi. Allora, quale vuoi? Allora, quale vuoi? Il primo per tagliare la legna. Allora, per la ponzo non importa che allunghi tanto, però eh. Ok, questo qua. Ok. Ciao Alex Groppelli. È arrivato anche il trabo. Ciao il trabo. Eh, altra meno. T'hai sentito? Il nostro, il trabone, buonasera. Ce la fai a saltar su qua? Guarda che ce la fai, Manu. Adesso ci provo. No, 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 non da lì. Da... 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 da qui. No, no, è troppo facile adesso. Ma parcheggia bene, Lelle, che stai montando sopra il... dal mondo. Ma se sono centratissimo. Ah, ok. Ma che casino state facendo. Ok, eh, altro? No, sì, no. Manca un trattore anche per... Ciao Victor. No. Ciao anche a Julius e a Andri. Basta. Non c'è altro. E manca l'ape su 17. Eh, arriverà Marchetto. Uh, l'ago a manetta io, eh. Lago a manetta io, eh. Ah, strano. Sono a 300 di ping, 370. Olè. Dove si va? Guarda. Ah, si attacca qua davanti. Che cacchio serve sto robo qua? Che robo? Ma... Per tagliare la legna. Ma che ho attaccato davanti. E il buffalo? Vado a fare qua? Che schifo. Vabbè, adesso... Faccio fuori tutto io. Basta. Il buffalo? Il buffalo? Il buffalo puntiamo su. Eeeh... Andiamo... Boh... Dov'è che c'è un pezzo di boscone? Ascolta, guarda che te ha... C'è un pezzo di pali ma... De mi... Ah, ok. Eeeh... Ma un trattore... Anzi, vengo io a prendere la cipatrice poi. Ecco dai. Bravo. Eeeh... Sotto il 27, se vuoi qua così. Il buffalo? Sopra... Sopra il 5. Vai dai, un nome nella garanzia. Eeeh... Andiamo... Dai, andiamo sotto al 25. Eeeh... Larghissima parecchio. Non lo fai ragazzi, sono a 50. Eh, tu sì, io sono a 360. Guarda, arriva nei comandi in ritardo. Dai, Manu, che dopo spengo un giù le robe dal carro. Dai, che non tocca di niente. Vedi qua... Andiamo super la montagna. Oh, ok. Tocco usare i tasti perchè ho paura di far danni col volante. Guarda che fai sempre danni. Non è vero. Mamma mia. Quanto lag. Guarda. Tocca sotto il rimasto. Sono stato bloccato. Eh, red, andryk ci chiede quanto dura la live. Mi hanno già risposto. Eh. Ah, sì? Ah, ok. Grazie a fender arrivo. Anzi, fender arrivo. Guarda la macchina qua. Oh no, mi sono liberato da solo. Grazie a me, che mi è venuta adesso. Eh, ragazzi. Quindi mi stai facendo tornare indietro per niente. Io sto laggando a manetta in gioco. Eeeh, figuratevi la connessione. Per la live. Speriamo bene, dai. Sennò faccio solo un po' di camera e faccio lavorare loro. Adesso vediamo. Ok. Non c'è niente di strada. Eeeh. Che fancaffè. E' rad che non le bonde guidare. Sì, magari. No, no, su serio. Io schiaccio il bottone. Ad esempio. Adesso sto... Adesso giro a sinistra. Adesso. E' GCB sta cadendo tutto dai morghi. Adesso. Aria dopo un bel po'. Ok. Dove stai andando? Mi chiedo io. Eh, su, in cima della montagna andiamo qua, dai. Qua così. Ci boschiamo tutto qua. Ma, dove sei ste? Eh. Sono bloccato perchè le robe sono... Ah. Si è libera... Boh. A caso. Perchè c'è il carro a lungo. Allora qua c'è mano. Luca sotto il rimorchio. Eh. Eh. Devo venire a darci una spin. Non si può alzare il rimorchio. Nele. Come no. Vai sotto e lo tiri su. Ma dove sei? E' che sboschiamo tutto qua. Eh. Ho sbagliato strada. Comunque sono proprio fiche le texture degli alberi anche scorticati così eh. Ma se io taglio come suop... Dove se, lo fai qua? Eh. Taglia, taglia dai. Sta arrivando! Sto arrivando. Taglia giù tutto. Adesso faccio cadere un albero sul forse. Abbiamo perso Stefo? No.. Sta arrivando, sto arrivando. Ah ok. Eccomi qua. Sto arrivando sulla montagna. Oll'ora... Allora... Ancora per tagliare! Guarda! E' giubali di nuovo, ah no, giubali di baffalo Comunque è lag parecchio A meno a me Ho visto l'albero cadere a scattoni Io so stato di parola, ho detto che lo faccio cadere sul ponso E così ho fatto Almeno non era la mia di ponso Io sono arrivato Io taglio giù tutto Però la mia ponso E' cade Questo robetto qua C'è red, tutta robetta qua, accendi la lama, fai cadere tutto E' anche con quello che c'è davanti io Ah addirittura sto qua è un albero morto Io faccio cadere Adesso si Cadere questo qua potrebbe caderti Ciao il trabo Ciao luna Eh stai tagliamolo so E' fatta legna da garanti Per stavolta passiamo Era una prova Ormai finiamo sta prova Per stasera E' Torno sempre indietro Invece andava avanti Che miseria Stasera ragazzi Va così Alla prossima volta Lo facciamo in single player O vedo di trovare una soluzione Quasi ste Prova a fare uscire Agri Game In realtà che non laghi più Quanti li facciamo I tronchi di lunghezza? Eh beh se tagli con la pons Li facciamo da un metro E li carichiamo direttamente sul rimorchio Quale è il rimorchio? Quale è il rimorchio? Il cramp? No il... Joskin No do Non ciò faceva andare avanti Dov'è il topo skin? Il topo skin è qua Eh vengono aglio Se la faccio Eh... Eh lo so Ma infatti ho detto Che forse stasera veniva Ma ho detto Che vedevo Dove sei l'ele? Oh? Eh son quito il camion Il camion Eh mi sa che devi fare il giro Poi c'ho quel faticone di mano Ho tutto bloccato qua io Allora aspetta vengo io Però no abbiamo... Ah si abbiamo il baffalo Per caricare Ma dove cavolo sei? Eh sei in su in cima Ma da chi stai giocando ora? Ah abbiamo aperto Permesso Siamo sul server di Lele Abbiamo avviato una nuova partita E stiamo... Stai zitto un attimo! Caracca No abbiamo avviato una nuova partita Con un po' di soldi così giusto per buttare dentro qualche mezzo Ce la fai? Vai lì da un metro Cosa la fai? Sì Hai fatto che? Vadoo abbiamo già sposcato Guarda ho tirato giù tutto Abbiamo sposcato tutto qua No non c'è neanche la camera qua Ma è comunque ragazzi è ormai già tutto pulito qua Aspetta che Tiro via i rami Nooo Lo hai fatto? Hai mollato l'albero tu vero? Eh no l'ha mollato No tu l'hai mollato L'hai mollata? No l'ha mollato L'hai mollata? Magari non sareste ancora qui in partita se l'avessi mollata Che schifo vabbè con tutto il cinese che mangi Ho mangiato una pizza stasera cavolo vuoi? Una pizza cinese Hai mangiato una pizza cinese? Eh? A tua testa Ciao Marchetto grazie per averci passato A dove mi sono incontrato? Alla prossima veccio Ciao ciao Eh laga Raghissimissimo Ma Sono tutti i posti che ci sono dovevo andarmi castrato Se niente Non riesco a muovermi Ma va caga Venimo giù Ma do mi teletrasporto E allora avete finito di tagliare? Basta tagliare che qua non ci sgruppiamo più dopo Oh io sto tagliando Sto tirando via i rami a caso eh Ah comunque basta tagliare facciamo fuori queste qua Miau Eh Come siamo messi qua? Che fatica Le 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 89 Sei il tuo operaio che canta Oh insomma Sei il tuo operaio che canta eh no la ghiscio, la ghiscio, la ghiscio tanto, la ghiscissimo, non riesco a essere giocato. Cosa hai fatto? Hai mollato l'albero di nuovo. Taglia due pezzi e poi cade. Taglia due pezzi e poi cade. Non sei capace. Io lo so, io lo so, colpo del caprone, colpo del caprone. Adesso io mi metto a sramare un po'. Eh srama va che qua è pieno di alberi da sramare. Lui la tagliano giù, tagliano giù e dopo la lascia andare. Oh io sto sramando, dai calmino. Dai ghiscio. E non ce la farò mai andare avanti. Io non dove hai il same? Eh? Io non dove hai il same? Eh che ne so, manco me lo compro stasera, sto caprone. No no, niente il same. È voluto la ponte cosa ti dai, fai del same? Eh perchè hai detto che facciamo legna. Red, dai. Red di same lo buttiamo nell'etamaio. Dai quando c'è l'etame. Eh, ne facciamo fare un po' opposta, dai. Ok. Allora siete contenti di aver visto una faccia da pirla a Leima? Certo, sono contento di averti visto il trabo. Avete visto il bug che hai un attrezzo che limita la velocità col tiratore? Invece la velocità automatica se tieni premuto 2, il mezzo vale la velocità massima. Ma va! Eh no, non ho ancora visto. Eh, guarderò, proverò. Vedi se tieni premuto 2, no, mi sto teletrasportando. Eh. Almeno mi tolgo la motosega, va. Di tutti sti tronchi? Eh. Cioè, dove li mettiamo? Un po' li cippiamo, un po' li vendiamo, facciamo legna a manetta oggi. Guarda, guarda, quando ne avete tagliati? Il microfono mutato. Eh? Eh? Avevo il microfono mutato e gli parlavo. Ah, tipo, era mezz'ora che stavi parlando, ma avevi il microfono mutato? Eh, sì. E tu eri là, ma perché non mi cagano questi? No. Eh? Eh? L'ho tagliato un altro. Basta! Allora, crede non funzioni più quel bug dopo l'ultimo aggiornamento. Io non si può dire anche di sto bug. Ciao, Marco! Eh... L'albero qua sotto. Doh? Mmm... Io, forse. Bravo! Basta alberi. No, ma che casino! Perché sto tagliando alberi? Orazio ha tagliato a raccolto barbabietole a 60 all'ora, con Deus. Bella madonna! Eh, stai presto a lavorare così, eh? Eh, sì. Eh? Ma tu dove stanno andando a finire? Eh? Facciamo il capo 5 barbabietole in 2 secondi. Eh? Mi te la trasporto! Mi te la trasporto! Mi te la trasporto! Oh, ascolta! Vittor! Eh? Buonasera! Eh... Cioè... Non lasciamo su sti due alberelli qua da solo, scusa, mi butti Angelo anche qui. Ma aspetta, finiamo di caricarsi qua prima, dai! Eh... Avete portato la cosa? Eh... Eh... Ci patrice? Mi c'è di no! Eh... Vado prenderlo io! Eh... Vado io, dai! Sì! Col tuo Fand! Se... 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 Se riesco... Ah, no! Ecco, sono mutato sul trattore. Dopo 2 ore mi ha staccato anche il carro. Tra un'oretta riesco a partire. Tra 2 settimane sei ancora lì! Eh... Eh... No! La ghiscia! Cade! Bam! Vado alla sincronia. Vado a... Vado... Adesso vedi che si ritrova al campo 5 Guarda 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 No non riesce a andare dritto Guarda che roba No la gomma netta Si è vero che aumenta la velocità Ma secondo me è un bug Perché con il Ritualmente la velocità del controllo Non viene messa la velocità automatica Grazie Manu Ah no ma è lì Cosa ho fatto? Ok stai Ecco Mamma mia Io premo Infatti Gira dopo tipo 2 secondi 2-3 secondi Ma adesso va bene? No un bel centro commerciale Qui in mezzo No adesso voglio capire una cosa Perché va da scatti Anche se il ping lo ha a 56 Non lo so Io lo so Io lo so Io lo so Io lo so Perché? Ma come fai a saperlo? Non è pirla Eh ma Luna la sto laggando perché Sto anche Streamando Già ho una connessione di cacca In più sto giocando nel server In più sto Streamando Oh Stefano basta Eh sono finito Oh questo pezzo non esiste più eh Te l'ho detto anche un stereocopo qua buttigi tutto Ti butto giù anche la calda Stefano Eh? No se Ma Stefano ti ti portato La cosa accettabile questa Però non arriva Giovanni No Non la metano Eh Per una cosa accettabile questa qua Posso guardarmi quanto l'è tagliato alto Perciò non è questo Eh scusa l'ho fatto a posto e sono arrivato il cascio camion in mezzo ai piedi ancora chi vuoi che sia si sta muovendo a solo occhie che mi sposta il camion ma troppo arrivo la ragazza di la gara il condottore di pink porca vaca mila che tutto rischio è che se si capisce c'è il baffalo che è totalmente sommerso ma come peraltro come li carichiamo abbiamo il baffalo o se no 5 3 e mano però possiamo prendere un caricatore non so vedete voi eh dai prendere un caricatore ciao dexter così li facciamo in due dai compro un caricatore e cosa volete mani tu mani tu mani tu mani tu ho sposto tutti i tronchi mangio io hai capito hai capito eh hai capito si l'ho capita ma era pessima no era da basso fondo dai mangia tu guarda che ti ho preso il cavoletto dai dai facendo da comprare la lama del silato e spazzarvi i tutti tronchi ne ho un'incastrato adesso riporto step compro il caricatore non ho quello del brand nuovo eh abbiamo appena 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 il mn2 dexter tutto ok a parte che sto lagando a bestia perchè sono in multiplayer ma se no per resto non è male troppi tronchi forca la mia non lo so ma chissà è troppo casino è troppo casino è casino ma la cipotora qua è acceso io ci penso io a biondi a arrangarsi ci aspettiamo sti qua ragazzo o legano combiniamo niente la cipotora non lo so provo a vedere la cipotora è acceso però bisogna caricarla venga state con il treno nooo non c'ho voglia di usare il treno fa caccare lo odio il treno faremo una puntata più avanti magari magari è proprio un video mentre facciamo qualche cavolatina però in live non c'ho voglia mi compri il same con il caricatore ho già preso il magnitù vuoi mangiare anche tu? dai così carichiamo no non voglio il mangiare anch'io voglio il same ma scusa eh adesso no per dire ma non c'hai i big soldoni anche tu dai compro tu il same finito dentro non è dall'altra parte 190 ruote larghe ovvio no strette sicuramente è quello con le ruote strette brutto cornuto colore colore così fucsia no ma come fate a che schifo brutto cretino ha preso con le ruote strette guardalo ho preso il caricatore rosa è veramente viola ma dai le pinze blu grande a posto potete prendere il caricatore bianco e le pinze verdi? no facevi bandiera italiana no perché? ma non c'è un carro qui dietro almeno non riesco a prendersi i tronchi o sto allargando talmente ma perché è che c'è il carro il carro per il cipato? eh boh ce ne sono due un è lì che è bloccato anche ce la farò mai azzai vado rimbombo da qualcuno io mi sa eh sì penso lele lancio mi ha ribaltato vai a lo shop per fare sì per vedere quella merda di caricatore viola che hai preso ma io sto buttando dentro i tronchi o fuori? ma io sto buttando dentro guarda te se un cristiano deve comprare eh peccato che non si possono cambiare i colori dei cerchi se non sai che i cerchi ti piacevo ma bavia e dove te li faccio i cerchi i colorati? sulla testa esatto bravo pensavo dietro mamma mia mamma mia sono forzutissimo eh sii sono forte la goa bestia però sei maciste dal culo triste ehm ok oh cipatore ce la fate come procede qua ah che figo guarda che brutto no avere la player camera cosa? dove sei? oh che figata adesso si ma dove sei? a lo shop ah ancora eh si di che colore ti sei fatto le cose? no ho sbagliato non te lo dico quasi quasi li faccio così anche nella mia serie porca miseria non ci credo però c'è eh non posso vedere le robe che sta usando quell'altro eh eh ora questo ti stai ingroppando un tronco ti stai ingroppando un tronco sono incastrata sono incastrata ok già fate com'è preso qua? fermo stif no? fermo? niente vabbè guarda tadaaa eh dove sei figo? è schifo vergognati ti fa proprio schifo ma voi fate schifo non ti parlo più ancora? quando è vero a che punto c'è viva lo suono anch'io insieme al nastro e beh ma appena iniziato qua comunque la nostra bella furbità ha pensato di non prendere rosicacepi vabbè no non lo voglio mi fa schifo manolo cannolo eh rosicali con i denti vai i ceppi dai facciamo una cosa tagliamolo con la tua testa bisognerebbe rosicarli ah non ho preso il peso eh complimenti eh lei ecco non si ferma adesso non so in quanti stanno guardando però mi segna 27 e nessuno scrive eh siete silenziosi stasera cosa vuol dire chi è che sei inizioso eh qua in chat dai stifano riempi di messaggi ma perché non tagliamolo perdo lo perdo ma poi tagliamolo eh dentro domani grazie non lagga più ok bene chi ma cosa stai parlando? che cavolo no vedo la tua pinza per aria ah aiuto cosa? stai laggando? no mi son incastrato ah a fare i tuoi io sto studiando bravo Marco ammiriamo i lavori bravo Alessio oh che busso manu dai che lo stai facendo? non lo so li perde a caso state facendo casini basta chiamarli stifano no sto roba qua le pinze di pasta frolla ma questa è merosa ma sta dito offende sta merosa comunque si cercavi chi vuole il Valtra Rosa per l'obietto i 60 all'ora una missione rimanevano 15 minuti ciao Agri Luca mi avevo dato 25 minuti è un bel bonus sul tempo ottimo Agri Luca dai basta chiamare Stefano Stefano se gli da fastidio basta dai per un po' va bene poi basta avete visto su tronchi i tronchi diciamo come gli anziani guardiamo e ogni tanto parliamo vai bravi poi non ce la faccio reddino cosa vuoi non sento la tv puoi abbassare un pochino no mettiti le cuffie Kappa t'ha chiamato anche il reddino mio eh eh minchia che buste che vuol dire ciao Alex non lancia addosso non vedo non vedo non vedo non vedo non vedo no lachissimissima guardiamo eh eh no ma pensano tantissimo sti tronchi qua eh aspetta aspetta ti faccio una scaletta con la roba fermo fermo ma vedi chi li lancia poco oltre e sali qui sopra aspetta è che sto 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 allargando mi sa che perdo il tronco per strada no forse no sì no ho perso il tronco cosa sta facendo sto lei niente sto cercando di buttare su un tronchetto no lago tanto Kappa eh ti dico una roba ma vedi non lo tira eh 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 quello col braccio la cipatrice e quella con la pinza avevo già finito di cipare tutto eh sono riuscito a buttarlo dentro questo oggetto è troppo pesante eh ma questo qua non me lo fa eh ma no ma c'è la forza di una formica lui qua che spingi? vogliamo uno più piccolo questo oggetto è troppo pesante questo oggetto è troppo pesante è davvero realistica la cosa eh la eh ce l'ho fatta a buttarlo dentro ma basta eh butta niente a quelli grossi oh finalmente e guarda che non sta neanche scaricando nel rimorchio eh la cipatrice ok Alex eh cosa c'è Manu? Manu no no la cipatrice non sta scaricando nel rimorchio eh adesso lo sposto io nel rimorchio ma non sta scaricando sul rimorchio se trovo un tratto eh perché c'è il rimorchio è troppo spostato eh eh li prende al volo da qua sopra eh non ti ripasso aspetta ti tiro nella faccia eh grazie tiragliano uno in fronte anche da parte mia ma vai a cagare eh eh stia fe no tira no eh no e niente mi è uscita la manina ma non le ho te li butti il testa e io davo sopra eh pirla eh mi hai rubato il fender che serviva da scaletta eh io no ecco ma sai siamo non mi hai riuscito a fare giù non pronto non vedo aspetta eh è uno qui sotto la ruota no e niente oh non ce la faccio vabbè a me ma ma no sì non sono un po' lunghi ah ma eh si infilano dentro lo stesso e non nel senso di Giovanni non è fatto eh che salti e pareti se fermate questo tronco e vado su se ma l'altro uuuu 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 guarda dove è solito far fermare il tronco uuuu uuuu dai nascolto degli incuccio dagli incuccio e scarso la parola vaffan vaffan ma per mano la spinta n 6 giustizio il titolo in faccia e avuto i reti nel sito si prendono legnate apporto nel vero senso la parola si lancio lungo lancio lungo no sposto mi hai distrutto il summer ragazzo gioca a basca pure basket food tu frequenti troppo stefano nel rimesso è tanto che è sinistra non è vero non è vero la mia famiglia for questo no troppo pesante fatta mano vai spingi allora ragazzuoli la connessione procede è la live per me certo che con le pinze non spinge niente spingi col culo appunto e il trabicolo appeso al fendorazio praticamente è al posto della motosega mi sono teletrasportato al posto della motosega si può tagliare con questo qua eccolo qua è la stessa cosa che c'è attaccato al jcb esatto anche il jcb è uguale abbiamo questa secchia vi mostro una secchia una secchia è una secchia si stacca anche guardate non so come si acqua così così è una secchia qua e si taglia eh red si è doppio è doppio ci sono due red non è bastava uno eh appunto eh già uno anche ne basta avanza guarda che mi sa che il carro è quasi pieno vabbè tanto la cipatrice ha una specie di serbatoio si ma non da 10.000 litri eh anche di più anzi in realtà non so quanto sia però cip 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 e carichiamo anche il jcb con la legna eh lei vieni qua con il caricatore manu uno dei due che porti un tronco qua sopra il jcb eh arrivo ah ci sono io mano ah va bene rat con il jcb taglia le gomme di lelex allora ma cos'è sta mafia o eh cretino il peso dove l'hai lasciato a casa eh sì sei fermo eh ma è fermo mi ha escappato dai fermo la posto adesso lo vedo in bilico sulle pina eh anch'io in bilico è andato aiuto aiuto eh se lo vuoi prendi poi io ho visto ho troppo che entrava nella rimorchia eh quanto spingi eh me l'ha dato un po' ma se io prendi pezzetti con questo lo butto dentro anche eh volete che vi faccio pezzi più piccoli eh e allora al tronco arrivo arrivo eh eh abbassa vieni più avanti boh 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 ecco non mi muovo più è proprio indietro eh vai più indietro e c'è il tronco che balla tutto boh e niente quando dico boh stai fermo e niente non sono fermo non sei fermo c'è il tronco che si muove tutto sono fermo e sto anche la gando bestia e quindi eh sto tagliando stai sciallo va madonna presto lungo che hai fatto tanto basta che stia dentro dai già così potrebbe anche star dentro anche dopo mi sa che facciamo casini me le fai l'acrobasia col sciame alla grande hai visto che roba quando il sale non ce la fa più red taglia taglia di più quindi sto pazzo lo butto a butto tana tata chi che taglia così alto red stia dentro il carro e arrivo non mi dava fastidio sto pazzo tagliato così alto chi è che l'ha tagliato così ecco è rimasto anche in piedi eh stiefano eh arrivo arrivo eh fermo fermo eh eh balla tutto ecco fermo oh bravo il trago così è a posto ma i capelli che c'ho fermo no per evitare il fatto del margine se no posta di calore con marcello buono buono passo scelto posto anche posto anche costituzione punti e consiglio la storia o taglio se no tagliati tagliati o togliti no tagliati lo tagli oppure no e lo tagli e lo dice kung fu no ma perchè stf non l'hai messo sul stesso punto di prima aspetta aspetta dai che lo taglio ecco mi hai buttato fuori e scalette non servono a niente che cosa sta succedendo io non ce la farò mai e mi senti... no lo togli quel cavolo di braccio stefano allora facciamo notte ooo dove vai cretino ahahah comunque c'è lona 21 che dice stefano quando parli mi fai morire da ridere ahahahahah oh fermi adesso che se no mi spiatellate metti la cucina stefano no no spostare non spostare quando il sum non te lo fa più arriva l'elex che lo modifica di più hai spostato il new wall non stefano ehm delinquente aspetta eh aspetta sto tagliando aspetta dai fermo aspetta eh adesso ti tocca spostarti di nuovo anche dopo niente ma almeno sono centrato eh no adesso il pezzo va fuori là eh va fuori il pezzo di là no non va fuori questo andava anche prima no è lì dentro prima fuori 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 questo ragazzo basta un po' basta e si è sceso al carro come da impirla eh si teletrasporta e' vero ahahahah ah già sto laggando a bestia no basta c'è davanti niente che ci sistemano i pronti ma te lo stavo facendo tipo modello setaccio oh taglio o no? ecco non so dove mettere comunque queste motoserie in tasca penso eh red no stai fermo no le mette in tasca di stefano ma io non mi muovo se tu vai avanti io non mi muovo eh scusa me ne sono accorto adesso l'ho fatto opposto hai fatto? dai il caricatore bianco che schifo si è bellissimo le pinze verole era più bello il caricatore viola e le pinze blu eh vuoi che si faceva contro lì? ah non lo scaricalo adesso com'è? ah oh stai fermo questo trattore? no sto facendo setaccio in modo che si distribuiscano metto un po' il setaccio e te lo tiri in testa omogenizzamento faccia glielo tiro ma si gli omogenizzati praticamente vuole fare merlin dentro al carro merlin? lo stai facendo? no dove vai? ti taglio pezzo abbassa abbassa esatto aspetta 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 vai lo cipiamo un pezzo piuttosto aiuto eh non so agri? nooo l'ho perso madonna agri? agri? c'è il suo trabo che non la sente parlare? ti sta preoccupando? eh no no sono concentrato ok c'è delle che io lo vedo per aria eh beh certo sono dentro al same io sono su operario comunque dai io sto laggando veramente a bestia però almeno la live procede quasi bene stiamo perdendo il 7% dei frame quindi diciamo che è passabile diciamo si dai e come si apre? ma io con questo posso tagliare in verticale con cosa? con questo non so magari se lo posizioni no no mi sa io no vai spinge ancora un po' non c'è modo per girare? spingi no eh prova a tirarlo per sedito perchè eh no vederlo non puoi eh però hai visto che con la legna puoi tagliare anche tipo in verticale così vediamo un po' vediamo un po' per trovare puoi anche seramare in verticale se vuoi eeeh mi è arrivato qualcosa su team speak eh ha scritto eh ha scritto ha scritto comunque avrei qualcosa da dire del fatto che Manu si impegna eh oh no fatti i caffi tuoi eh ti termini queste parole vabbè infatti ho detto caffo eh ma lona si è sempre rotto eh cosa hai fatto stavolta? perchè si muove la cipatrice? ma non so ma ogni tanto si sta cominciando è come nella puntata te ti ricordi che andava avanti e indietro da sola? oi non so come mai si ma voi adesso no per dire ma voi continuate a buttare dentro ma il carro è pieno eh si vabbè ma se lo tiene lì comunque il cipato si ma dopo un po' finisce anche il salbatoio eh oh oh bravo vai a scaricare allora io no meglio di no andiamo a scaricare quando è pieno anche il joshking cosa fai ste? sto tenendo giù i tronchi siete meeeh no sto facendo una cosa buona tieni più giù tieni più giù ecco dai che non ce la fai con quel coso sieeh è in realtà ma meglio del monitor eh provo alzare stefano no si si vai schiaccia allora adesso ma niente mi lascia in parte avete finito di buttare entro a c patricia che tanto non prende più niente non è che carichiamo sulla joshking ma e ragazzi c'è puoi spingere con quel cattorto di rocco ma no no non becca la collisione c'è un lele volante guardate eh lo vedo anche io eh si c'è un lele volante ma sono entrostante e guardati la live guardate è un lele volante ahahah ahahah ricordando la live hai visto? che figata e dove va questo? qua non va nessuno dove? eh? no aspetta ti ho detto agri ecco bravo che qua quando andiamo a morire eh ma l'ho sposto almeno ah ok fai il mucchione cosa do mai eh c'è un mucchio poi si mette stefano con il vanile mi prendi il rovvi il rov figa seppi del jcd che? ecco ah li lo prendo io il rov figa seppi san lele protettore c'è un mucchio